Facevano otto giorni che stracciavo le scarpe sui sassi delle strade. Eccomi a Charleroi, alla locanda verde, domando pane e burro ed anche del prosciutto, purché sia mezzo freddo. Stando bene le gambe sotto il tavolo verde e, beato, contemplo qualche scenetta ingenua sui muri tappezzati. Che momento divino, la serva ben popputa e dagli occhi vivaci, quella lì non è certo un bacio a spaventarla. Mi porta sorridente le crostine imburrate, il tiepido prosciutto in un piatto a colori, prosciutto rosa e bianco profumato un po' d'aglio. Mi colmo un boccale immenso la cui schiuma diventa d'oro, a un raggio del sole che si indugia.